47 evasori totali scovati, 41 milioni di euro di imponibile netto non versato nelle casse dell'erario, oltre 27 milioni di euro di IVA evasa. Sono questi i numeri delle 258 indagini tributarie rese note dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara in occasione della ricorrenza del 246esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Nel dettaglio dei settori oggetto delle verifiche in quello dei carburanti è stata scoperta un ingente frode all'IVA per 18 milioni di euro attuata tramite l'utilizzo di 29 società cartiere operanti nel territorio nazionale. Complessivamente sono stati denunciati 191 soggetti per reati tributari e sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per oltre 7 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori proposte di sequestro già avanzate per uno totale di 27 milioni. Nel comparto del gioco e delle scommesse sono stati eseguiti 47 controlli di cui 11 sono risultati irregolari con 81 persone verbalizzate e 5 denunciate. Per i reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate penalmente 11 persone e sequestrati beni per oltre 75 mila euro mentre 80 persone sono state segnalate alla Corte dei Conti responsabili di un danno erariale superiore a 600 mila euro. Nell'ambito dei reati concernenti l'usura, il furto e lo spaccio di droga sono state identificate 246 persone ed eseguiti sequestri per circa 21 milioni di euro di cui oltre 10 milioni già portati a confisca. Infine nell'ambito del controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti sono stati sequestrati 780 chilogrammi di hashish e marijuana, 145 piante di cannabis e un chilo di eroina con la denuncia di 72 persone di cui 14 arrestate e 82 segnalate tra gli assuntori. Particolare attenzione poi è stata rivolta al controllo delle aree più sensibili della città di Pescara, Rancitelli, l'area di Risulta, Piazza Santa Caterina e le zone della Movida. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria per il covid-19 sono state controllate circa 3.700 persone, denunciate 45 segnalate amministrativamente 91, nonché controllate 647 aziende anche su richiesta della prefettura contestando violazioni nei confronti di 131 attività economiche di cui due sottoposte a sequestro e chiusura.